Vi racconto la mia storia Avevo finalmente acquistato una Reflex per aumentare la qualità dei miei video E la mia vita era ancora serena e tranquilla Ah cane Eh? 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 Eh non mi riprende! Ciao Kikko Oh il telefono Fin quando non iniziarono ad accadere un susseguirsi di eventi paranormali e spadizioni inspiegabili Finalmente un po' di relax Film Violet Allora ti chiamo Ecco a fuoco Sono lei? Sei a fuoco no? Si? Che? Che cac... No! Barbara D'Urso no! Durante le registrazioni notturne tutto sembrava tranquillo Il corridoio La sala da pranzo Tutto sereno Le luci degli alberelli che aveva fatto mamma E il padre Pio appeso la porta Bello Tutto bello La mia casarella Doce doce Fatta bene Ma poi Cominciano a verificarsi Eventi Paramanor Paraman Paranis Paranamol Vabbè cose strane Decisi così di cogliere in flagrante la presenza E cercare il punto giusto per pezzare una telecamera E nascondermi guardando dal vivo l'avvenimento Piazza Illesca E andai a nascondermi Sapendo che la presenza si sarebbe rivelata Dopo pochi secondi Allora Chi è lei? Ma sei tu a quello che stai a luare una roba a viso Certo ma metti sempre i casi in mezzo Budella Budella Paranonna activity Alcimena Ah no Aspè Ah si si Alcimena Alcimena Alcimena